Norcia nell'Umbria dà il nome alla persona che ha le conoscenze, le competenze e le capacità per uccidere il maiale perché da lì partivano numerosi norcini che si spargevano anche fino a Roma, nel Lazio e in tutto il centro Italia. Nella nostra zona, in termini dialettali, si chiamava al masseco, lui che uccide, che ammazza il maiale. Il maiale che viene, che è oggetto della lavorazione, deve il suo nome presumibilmente a Maya, la divinità delle messi dell'abbondanza ed è l'animale sacro per eccellenza Maya, l'animale che rappresenta e raffigura l'abbondanza. Era infatti in qualche maniera il salvadanaio della famiglia perché accumulava nel corso di un anno mangiando le sostanze che servivano per sfamare un inverno e che consentivano a tutta la famiglia di sopravvivere. Da qui l'uso di fare poi i salvadanaio a forma di porcellino.